Imprenditori ed istituzioni, o meglio, come gli enti pubblici territoriali, nella fattispecie la regione, dovrebbero supportare, sostenere, aiutare gli imprenditori. L'imprenditore non fa un'attività che è fine a se stessa, l'imprenditore crea occupazione, l'imprenditore dà pane a numerosissime famiglie, è tutto un circuito che deve essere, o dovrebbe meglio essere, adeguatamente incentivato e promosso dagli enti locali, lo ripetiamo, dalla regione, visto che ci stiamo occupando di rinnovo del Consiglio regionale. Ne parliamo con Agostino Perrone, detto Costantino, che è candidato al Consiglio regionale con Fratelli d'Italia, a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Io, per quanto riguarda questa cosa qui, direi che un imprenditore non si deve concentrare. Io, per esempio, sono imprenditore lavoratore e faccio anche, diciamo, prendo delle commesse, contatto io, vengo contattato, chiudo dei contratti. Ma questo in un'azienda non basta oggi. Oggi basta che serva anche sedersi dove siamo, diciamo, trascurati, non veniamo presi in considerazione. Se facciamo un discorso tra imprenditori e tutti che ci lamentiamo, però nessuno dei nostri è seduto lì e capire come, essendo la mia esperienza amministrativa, che poi a livello regionale è una cosa più grande, dove veramente il nostro governo del territorio è la regione, beh, io, è stato uno dei motivi che mi ha spento anche a sedermi per vedere, cioè, per vedere come arrivare le risorse nei nostri confronti. Grazie a tutti.